Da 6 dicembre sono ufficialmente entrate in vigore le nuove norme per prevenire la diffusione dei contagi da Covid-19 e limitare la quarta ondata che da qualche settimana sta investendo l'Italia e l'Europa. Le misure del governo però sono state accolte con non poche polemiche in diverse categorie. Tuttavia per l'ingresso nelle scuole non è stato posto l'obbligo del Green Pass e quindi ragazzi che non hanno intenzione di vaccinarsi potranno comunque seguire le lezioni in classe, fatte eccezione in zona rossa, mentre gli studenti universitari dovranno continuare a tenere con sé il lascia passare anche quello base per accedere agli Atenei. Un vincolo che provoca non pochi disagi come ci racconta Giulio Maria Filippetti iscritto alla Facoltà di Psicologia Cognitiva Applicata all'Università di Bologna. Una condizione penalizzante sicuramente perché avere modo di accedere alla struttura, alle strutture, quindi biblioteca, già solo la biblioteca è negato l'accesso a chi non ha il Green Pass, le lezioni in presenza sono comunque una sorta di controllo a campione per cui se ti va bene non ti controllano altrimenti ecco puoi avere la sorpresa e quindi stare a casa comunque comporta tutta una serie di svantaggi sia per quanto riguarda i mezzi di collegamento che o magari una famiglia non può avere per esempio una linea accettabile oppure l'università stessa che fa un po' arrabbiare certe volte quindi oppure i professori che privilegiano giustamente mi verrebbe da dire chi è lì in presenza perché è proprio è spontaneo interagire con chi è lì anche perché altrimenti hai questo schermo che da cui non proferisce parola per cui è un po' estraniante per il docente interagire con chi sta a casa. Non solo lezioni ma anche esami a distanza compresi gli iscritti. Dopo dipende dal professore dipende dalla modalità dello scritto però si era pensato a inizio pandemia di utilizzare un sistema di vigilanza per cui uno si autoriprendeva mentre scriveva al computer piuttosto che su un foglio di carta dopo penso che sia venuta meno questa pratica perché era molto ostica. Quindi vanno un po' più sulla fiducia? Sì ma anche l'orale diciamo che è un po' un problema anche quello perché l'occhio magari sfugge però... E ci sono tanti altri studenti nella stessa situazione di Giulio cioè senza lasciapassare come una ragazza che frequenta psicologia con la quale è in contatto e altri giovani di diverse facoltà. Ho un buon rapporto abbiamo creato anche un gruppo whatsapp ci sentiamo lì condividiamo alcuni pensieri alcune notizie ci teniamo così in contatto e ci supportiamo perché è fondamentale in questo momento per chi come noi appunto resiste farsi forza all'un altro. Quali sono le vostre richieste? Che cosa sperate? Noi spereremmo che cadesse questo Green Pass che si tornasse alla possibilità di accedere alle strutture universitarie in libertà sempre naturalmente rispettando regolamenti che verranno naturalmente imposti però regolamenti che siano liberali che permettano a chiunque dato che le tasse comunque le paghiamo anche noi di accedere in tranquillità senza doverci o tamponare o vaccinare per un qualcosa che noi paghiamo profumatamente bisogna sottolinearlo quindi ecco la speranza è poca ma è l'ultima a morire ecco.